Oggi stiamo utilizzando la ScanCut per creare dei cartellini che sono la soluzione ideale per dare pregio a barattoli di miele, marmellate o conserve. Questa è una produzione per un'azienda artigianale quindi stiamo lavorando in foglio A4 con l'ausilio di una stampante multifunzione. Per questa dimensione di cartellino pieghevole in doppia pagina abbiamo inserito all'interno del foglio A4 12 cartellini, ovviamente poi ognuno si muoverà secondo le sue esigenze. Questa è una prova di stampa e come vedete abbiamo potuto fare una stampa sia sul fronte che sul retro della pagina. Quindi oggi faremo un tutorial per vedere passo passo come portare avanti una produzione velocizzata di cartellini. Siamo partiti in Adobe Illustrator dalla creazione della fustella utilizzando rettangoli, linee e tondi, tutti con colore di riempimento nullo e traccia nera di un punto, all'interno della quale abbiamo progettato la grafica. Eccola qua. Dopodiché abbiamo sistemato le varie grafiche per riempire il foglio. Poi ho selezionato ognuno di questi tracciati e semplicemente con modifica copia in un altro documento in colla abbiamo creato un nuovo file che riguarda esclusivamente il taglio che abbiamo salvato, file salva con nome in formato svg perché questo è il formato che è compatibile con la Brothers CanCut. Nella preparazione del foglio di stampa è l'inserimento di questi croccini di registro sistemati in punti strategici per poi all'interno del Canvas Workspace riposizionare i tracciati di taglio sulle stampe. Quindi abbiamo messo questi quadrati di neri al termine delle schiere di cartellini. Ovviamente per stampare questa pagina tutti i tracciati di taglio devono essere nascosti. Oggetto, nascondi, selezione. Per quanto riguarda il retro c'è un motivo di fondo ma se vediamo questi cartellini hanno orientamento diverso perché questa L di cartellini hanno l'orientamento in orizzontale e quest'altra schiera invece ha un orientamento verticale. Quindi il retro praticamente in modo speculare abbiamo dovuto ricavare questo riquadro di trama diversamente orientato. Passiamo all'importazione del taglio. Il tappetino di taglio è 30-30 però ovviamente avendo avuto noi la necessità di stampa ci siamo fermati sul formato A4. Andiamo a mettere dentro il materiale e ad acquisire l'immagine da inviare via internet al pc. E avviamo. I plotter non sono tutti uguali e la potenzialità della scancut sta proprio nel suo scanner. Fotografando le stampe sul tappetino riusciremo a posizionare perfettamente i tagli. All'interno del canvas workspace andiamo ad importare il file svg. Come vediamo tutti quelli che erano rettangoli vuoti invece il canvas li vede come pieni. Non devo far altro che selezionare tutto, andare nelle impostazioni di colore, rimuovere il riempimento, mettere trasparente e mettere solo contorno nero. Ulteriore operazione da fare visto che non c'è distinzione fra linee di taglio e linee di coordonatura, che sono queste che passano nel centro, vado direttamente sui livelli, seleziono, tenendo premuto il tasto CTRL e facendo clic con il mouse, le linee di coordonatura, mi sembrano selezionate tutte, ritorno sempre sul pennello e gli dico linea tratteggiata. Controlliamo di non aver escluso nulla. A questo punto seleziono tutto e raggruppo. Dopo aver effettuato la scansione con lo scanner della Brother ScanCut, faccio file, importa da macchina di taglio, dati acquisiti. La prima cosa che devo fare è andare sul livello, disponi, manda indietro e poi devo bloccare. Posso fare anche tutto dai livelli, queste operazioni, abbiamo la possibilità di visibile e non visibile, blocca sblocca e anche il trascinamento con il mouse. A questo punto, dopo che l'abbiamo bloccata, selezioniamo l'altro raggruppamento che è il file di taglio e con l'aiuto dei crocini che ho stampato, tenendomi mezzo millimetro in accostamento, vado a posizionare perfettamente il taglio sulla stampa. A questo punto faccio l'esportazione verso la macchina. Dopo aver sistemato il taglio al computer andiamo a richiamare il file, quindi seguiamo la procedura guidata di richiamo del tracciato di taglio. Come vediamo sullo schermo tutto corrisponde, ci sono alcune modifiche che possiamo fare qua, ma è per altre esigenze, in questo caso siamo sicuri che è tutto perfetto, andiamo a selezionare l'operazione di taglio, la macchina ha una lama con sensore di regolazione automatica per cui se andiamo a vedere le impostazioni sono tutte automatiche, però ovviamente tutti i parametri sono modificabili dall'utente. Diamo l'ok, non effettuiamo neanche una prova perché questo si fa quando non si conosce il materiale, noi stiamo utilizzando un cartoncino spesso ma già lo conosciamo e avviamo il processo di taglio. Quindi in questo foglio A4 ci sono 12 cartellini, il cui taglio impiegherà 7 minuti, la parte maggiore di questo tempo è impiegata proprio per la realizzazione della parte trasorata nelle linee di coordonatura, tutto il resto avverrà veramente in un minuto. Con una stampante multifunzione e una scan cut riusciamo a realizzare quindi dei cartellini veramente professionali con la massima precisione sulle misure e sulla stampa. Possiamo in questo modo arricchire una confezione sia minimale che anche molto elaborata. In questo caso abbiamo anche aggiunto un nastro in raso stampato personalizzato. Contattateci se siete interessati ad arricchire i vostri prodotti o a una soluzione di stampa e taglio per fare stampa con totersi. Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche di QTSS Grazie a tutti.